Ben trovati nell'angolo dello sport, domenica ore 15, Pescara-Crotone. Il Crotone giocherà naturalmente con un orecchio, metaforicamente parlando, rivolto verso Empoli, dove si giocherà la partita Empoli-Bologna, partita molto difficile per l'Empoli e se le cose dovessero andare secondo i loro desiderata potrebbe esserci un riavvicinamento notevolmente importante. Il Pescara da parte sua giocherà questa partita con l'animo tranquillo, non deve più dimostrare nulla, deve giocare cercando di fare una dignitosa figura, soprattutto in considerazione del fatto che il regolamento prevede e pretenderebbe che la squadra giocasse con la migliore formazione possibile. Ma qual è la migliore formazione possibile? Allora in Porta Fiorillo, poi abbiamo Zampano, Fornasier, Bovo, Biraghi, però per Bovo c'è qualche piccolo punto interrogativo, quindi vedremo domani con maggiore precisione, altrimenti dovrebbe giocare Coda. Poi in linea di centrocampo, Mendai, no scusate, Mendai non esiste, Memushai, Bruno al posto di Montari che è squalificato e poi Colibani. In avanti Benali, Baebek, Caprari, l'arbitro come sapete russo di Nola e non porta bene questo arbitro, gli ultimi quattro incontri che ci ha arbitrato li abbiamo persi tutti e quattro. L'ultimo, Pescara e Fiorentina qui in casa, perso per uno a due. Che altro vi devo dire? Che Vitturini e Stendardo non ce la fanno, domenica rientra a Biraghi, quindi l'ho messo in formazione, e Montari che avrà una giornata di riposo ha rifiutato il tapiro, un tapiro che probabilmente per rigore di logica dovrebbe essere assegnato alla tifoseria pescarese che è veramente attapirata per come hanno condotto questo campionato. Vabbè, ma avremo tempo e modo di parlare ancora di quello che è stato fatto e non fatto per la Pescara Calcio di quest'anno. Un affettuoso abbraccio da Gianni Lussoso, come sempre, un ringraziamento all'amico regista e collega Leo Di Blagio. Appuntamento alle prossime edizioni di TVCosport.